quando mancano 100 metri allo stacco della macchina. La rottura di Rocket Fulfi e così c'è lotta per il comando con Remember Isle che cerca di contenere il raggio di luce che attacca. Nr. 1, Rocket Fall F.I., squalificato. Insiste, si avvantaggia in 150 metri, il raggio di luce conduce nei confronti di Remember Isle. Nr. 5, Regina FKS, squalificato. Squalifica anche per Regina FKS che ha sbagliato sulla piegata. Intanto, primi 214.5, quarto che se ne va nell'ordine del 34. Ha subito provveduto a rallentare l'andatura Dario Battistini con raggio di luce. All'esterno ne approfitta per risalire Riccio Riz. Terza posizione alla corda per Rombo di Tuono che precede Rineland. Più indietro c'è Roberto Griff. Intanto per il 647.3. Un'andatura molto blanda. Raggio di luce una volta in testa. Non ha nessuno che va a disturbarlo. Così continua nella sua marcia di trasferimento. 1.2.5, il passaggio di 800. Ora prova a farsi luce all'esterno Riccio Riz che avvicina. Raggio di luce quando siamo a metà della penultima piegata. Si trascina Rineland. Chilometro che se ne va in 1.17.6. Quintetto abbastanza compatto a 500 dalla conclusione. Soltanto Roberto Griff più distante. Siamo ora al completamento della dritta delle scuderie. 400 al traguardo. In vantaggio sempre Raggio di luce nei confronti di Remember Ile. Mentre Riccio Riz cala. Serra sotto invece Rombo di Tuono. Più indietro c'è Rineland. Sposta all'esterno. Remember Ile a 200 dalla conclusione. Si porta all'attacco di Raggio di luce che si difende. Mentre all'interno c'è lo scatto di Rombo di Tuono. Ultimi cento di gara. Passagevolmente. Remember Ile nel finale. Viene a concludere netta vincitrice. Secondo posto per Rombo di Tuono. Che a sua volta piega Raggio di luce. 1.15.3. Un doppio 29.1 per la chiusa. Il successo per Remember Ile e Andrea Farolfi. Il training è quello di Olga Rellert. La quota al totalizzatore 2.80. Cala nel finale il favorito Raggio di luce. Dopo un percorso tutto sommato abbastanza comodo. E così Remember Ile ne approfitta per scattare all'ingresso in dirittura d'arrivo. E svettare netta prima davanti a Rombo di Tuono che a sua volta piega Raggio di luce.